Una mattinata di approfondimento dedicato ai progetti del Parco Naturale regionale Mar Piccolo e che si colloca nell'ambito della strategia di ecosistema Taranto, centrali temi legati alla tutela della biodiversità e alla gestione sostenibile del presidio naturalistico. A portare il saluto del sindaco nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città, il capo di gabinetto, la dottoressa Greta Marraffa. Stiamo dando applicazione alla famosissima legge regionale 30 del 2020 di istituzione dell'ente di gestione, il consorzio che andrà a gestire il Parco Naturale regionale del Mar Piccolo. Abbiamo sottoposto ai comuni interessati dal perimetro della normativa quello che è lo schema di statuto che dovrà essere sottoposto ad approvazione dei rispettivi consigli comunali ai sensi del testo unico degli enti locali. Quali sono i comuni interessati? Sicuramente il comune più interessato è il comune di Taranto che ha una quota percentuale territoriale addirittura superiore al 90%. Poi abbiamo il comune di Statte, di Carosino, di Grottaglie, di Fragagnano, Montegliasi e San Giorgio Ioni. Diversi gli interventi programmate di esperti e docenti universitari. Noi abbiamo realizzato una serie di monitoraggi nell'arco di due anni e quindi adesso oggi stiamo offrendo i risultati che sono senz'altro positivi perché questi pascoli hanno mostrato una ricchezza floristica notevole e che quindi siccome sono all'interno del parco del Mar Piccolo chiaramente meritano un occhio particolare, una tutela proprio in vista della tutela della biodiversità. Un percorso progettuale abbastanza articolato, quello relativo al parco naturale regionale del Mar Piccolo. La prospettiva? Beh, la prospettiva deve guardare anche alla storia di questo luogo. La storia di questo luogo è la storia anche dell'istituzione del parco. Ricordiamo che un parco non è una riserva. La riserva ha dei vincoli di tutela più alti rispetto a un parco. Un parco prevede al suo interno anche lo svolgimento di attività umane. Attività umane che ovviamente devono essere compatibili con questo delicatissimo sistema ecologico. C'è tutta una situazione da scoprire, da promuovere, che sono quelli dei percorsi ambientali e archeologici.